Il primo di una nuova grande serie L'epica storia di un ragazzo che divenne il più grande guerriero samurai del Giappone feudale del XVI secolo Lo sforzo, il sudore, la fatica faranno di lui il più grande guerriero di tutti i tempi L'onore del samurai, un grande romanzo di David Kirk, Newton Compton Editori Grazie 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 Grazie